E siamo alla mitica fontana dell'Ezizia, la fontana Rezizia per i napoletani è la fontana dedicata alla sirena partenope, la madre della città, la sirena partenope che come vedete non ha la coda da pesce in questo caso perché la sirena in questo caso nella mitologia greca soprattutto aveva le zampe da uccello, una delle tre sirene che provano ad ammaliare Ulisse nel suo percorso, Ulisse non si fa convincere dal canto melodioso delle tre sirene e loro sconfitte da Ulisse si fanno praticamente morire, si lasciano morire e una delle tre, questa la sirena partenope, si lascerà morire sulle coste di Napoli e arriverà e nascerà quindi partenope, infatti il primo insediamento della Magna Grecia, della Grecia al di là di Cuma è proprio dove c'è l'isolotto di Megaride, infatti si narra che la sirena partenope si lascia morire sull'isolotto di Megaride dove poi nascerà il castel dell'uovo e Virgilio metterà l'uovo al di sotto del castello che è praticamente la città di Napoli ed eccola qua la Fontana delle Zizze.